Siamo qui con Luciano, Luciano, Gaia, Alessia, si chiama Cristian, lo conosciamo? Ok, vai! Posso iniziare per primo? Sei anni? Per l'intro, manco il quiz! Prendici tu, Luciano, Gaia... No, voi avete la bocca, parlate voi! Con chi siamo, forse, lo vogliamo sapere! Cristian, Alessia, Gaia, Luciano, e con chi? Andrea! Questa volta il quiz sarà un po' diverso, non ci sarà da indovinare età, non avremo altre cose, non c'è un tema esatto, niente Marvel, robe del genere, si vedranno foto di bambini. Ok? Ok! Oggi non sono più bambini, fortunatamente, sono attori e attrici. Le regole stavolta ve le ho dette, non faccio passaggi, chi indovina alza la mano e dice il punto. Te indovini a primo colpo senza che ti do le quattro risposte e due punti, se invece indovinate con le risposte è un punto, capito? No. Questa, chi è? Jennifer Aniston, Jennifer Lawrence, Jennifer Lawrence! Le ha alzato la mano? Chi è questo bambino che gli sta scoppiando probabilmente il collo? Non è un meme, vero? No. E dai, gli indizi, no? Elijah Wood, Jay Gillenall, Tom Holland e Ben Affleck. Il secondo, quello che hai detto? Chi è questo bimbo? Sono tutti i bimbo, giusto? Con le dirt stopper può essere? Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. Chris Hemsworth, Chris Evans, Chris Pine, Chris Pratt. Chris Evans. Chris Evans. Tutte e tre sbagliate, tutte e quattro sbagliate, a posto. Il secondo? Il primo. Chris quello? Chris Hemsworth. Luciano, un punto. Ehi, calmati. Chi è questo altro bambino? Il bambino col pigiama a righe. È a quadretti la camicia. È a quadretti. Il bambino col pigiama a quadretti. Indizi. No, non ce lo conosce. Silvester Stallone. Due punti Luciano. Silvester Stallone. Ma che cazzo? È senza alzare la mano. Questo bambino che giudica. Chi è? Martin Freeman, Benedict Cumberbatch, Jack Nicholson, Jeff Bridges. Jeff Bridges. Jack Nicholson. Bridges. L'ha detto lei prima. Chi è? Mi viene a dire Trump, però non so che non è lui. Tom Cruise, Russell Crowe, Owen Wilson, Bill Scott. Russell Crowe. Un punto. Dai! Porca troia! Un po' in corsia. Si vede negli occhi che è Russell Crowe. Ci spostiamo un po' più a destra? Maria, ci siamo. Alessia è coperta. No, perché siamo sempre più avanti e sempre più a sinistra. Fate scambio, perché tu vieni coperta da... Se no, mi vedo. Buongiorno. Buongiorno. Che c'è? Chi è questa bambina? No. La Watson. Millie Bobby Brown. No. Sandra Bullock. No. Dai, inizi. Jennifer Lopez. Posso sparare un altro? Prova bene. Ma il pigmento arriva dopo. Michael Jackson è il contrario. Elizabeth Olsen, Winnet Paltrow, Amy Adams e Scarlett Johansson. Scarlett Johansson. Chi è quest'altro bambino? I bambini sono tutti uguali. Jim Carrey. No. L'ho risata lo stesso. Mark Ruffalo, Mark Wahlberg, Tom Hiddleston, Tom Cruise. Tom Hiddleston. Tom Cruise. Un punto Luciano. Luciano ha cinque punti. E quanti ne ho? Cioè, sono, raga, sono fortissimo. Non vengo dalla luna. Non vero? Ci vedo per logica, deduttiva dai tratti somatici. Eh, proprio. Non ci fosse stata io per... Infatti si vede proprio che è Tom Cruise. Cioè... Chi è quest'altro bambino? Un futuro criminale. Che si chiama quello di Buzz Spencer? Joker può essere. C'entra con Joker. Un indizio così. E nel film? Vabbè, vai. Non proverisco altra parola. No, non me la ricordo. Un indizio. Robert De Niro, Stellan Skarsgård, Al Pacino, Christian Bale. De Niro? Un punto Luciano che è il primo a dire sempre... Chi è questo? Oddio. Vediamo. Non so perché, ma... Quello che fa... Ce l'ho presente. Quello che fa... I play in Pokémon Go. I play in Pokémon Go every day. No, come questo si chiama? Brian Cranston, Giancarlo Esposito, Jim Carrey, Ethan Hawke. Giancarlo Giancarrey. Un punto Luciano. Troppo OP. Chi è questa bambina? La Watson. Pure io avrei detto così. Kate Winslet, Marilyn Monroe, Maria Bacalova e Vangelin Lillie. Maria Bacalova. Tu che dici qualcosa? La prima. Marilyn Monroe da piccola non è proprio andare a moro. Piccola curiosità. Marilyn Mora. Disclaimer. Non richiesto. Vai. Marilyn Monroe. Angelina Jolie. Lei dice Angelina Jolie? Watson. Ma Watson. Anche nel quale... Io dico indizi. Emily Ratajkoski, Natalie Portman, Michelle Pfeiffer, Margot Robbie. Margot Robbie? È l'altro. Nessuno. No, aspetta, io voglio dire la seconda. Da primo l'ho detto la seconda. Un punto Gaia. Oh. Barando, aspetta. Non è vero detto la seconda. Chi è questo? Tommy Hiddleston. Brad Pitt. Adonno. Nessuno dei due. Dylan O'Brien. Cole Sprouse. No. Dylan Sprouse. No. No, lo so. Indizi. Ewan McGregor. Hugh Jackman. Zac Efron. Zac Efron. Thomas Hatchurch. No. Il secondo. Grazie, è l'unico che rimane. Allora questo lo saltiamo. L'ho detto prima io. Non puoi, cioè, grazie. No. Hugh Jackman. Quindi, chi è questo papa? Antonio Banderas, Adam Driver, Tom Holland, Dylan O'Brien. Dylan O'Brien. Antonio Banderas. Tom Holland. Antonio Banderas, un punto. Adai. Tom Holland. È sempre Tom Holland. Tom Holland. Ma quanti anni ha che hai? Esatto, foto in bianco e nero. È un island. Cristian è il più forte sempre. Mi raccomando, sì. Forse uno che ha fatto Spider-Man, è il cattivo di Spider-Man. Terrence Hill. C'è lo questa cosa? No. No, lo so. Conoscessi uno, sì, lo direi. Woody Harrelson. Leonardo Pieraccioni, Quentin Tarantino o Tom Hardy? Quentin Tarantino. Tom Hardy. Leonardo Leonardo. Complimenti. È fatta di prima. Chi è questa bambina? Che dovete fare? La Watson. La Watson, sempre la Watson, no. Sandra Bullock. Ciara Bravo. Selena Gomez, Valencia Incontrada, Tessatone. Selena Gomez! L'ho detto prima io prima. Mi ha scoppiato l'orecchio, però sì. L'ho detto prima io prima. L'ha detto lui. Prima l'ho detto io. Io faccio anche la parte di Gaia. Starei come l'ho propria pista. Due. Chi è questa bambina con i fiori in testa? Capira. Stefani, Giovanna, Angelina Germanotta. E' chiamata Lady Gaga. Brie Larson, Emma Stone, Elliot Page. Emma Stone. Brie Larson. Tu che hai detto? Lady Gaga. Brie Larson. Un punto a Luciano. Chi è questo bambino sul seggiolone? Ancora non sviluppano i tratti soviatici? Questo ce li ha. Di Capri. Due punti a Luciano. Si vede, che era Di Capri. Si vede, si vede. Ma che cazzo dici? Si vede. Fammi vedere. Si vedrà nel video. Guardate, non è così. Non l'ha vista, forse è il video. Non mi sa di no. No, me lo ricordavo che è spuntato. Oh, giuro che l'ho vista. Poi ti dico tutte le cose che... Chi ha vinto? Ok, a posto. Ha visto solo la fine. Chi è questo bambino? Serena Gomez. Bambino. Mi ha letto prima, poi Serena Gomez. Tom Hardy. Oscar Isaac, Emma Watson e Emma Roberts. Tom Hardy. Oscar Isaac. Oscar quello. Un punto a Luciano. Sembra un mafioso. Questo qua però ci assomiglia, qualcuno. Zaccai e Frollo. No. Andrea Balestri. Josh Holloway. Robin Sparkle. Robin Williams. Josh Holloway. Robin Sparkle. Gaia. Gaia un punto. Noi Snarcos. Eddie? Di Stranger Things? No. Non lo so. Quello dei Thunderman? No. Jimmy Campbell. No. Dylan O'Brien. No. Dylan Minette, Morgan Freeman, Ezra Miller, Andrew Garfield. Morgan Freeman. Garfield. Il quarto. No, non ha azzeccato nessuno perché la risposta è Ezra Miller, conosciuto per essere l'uomo più veloce del mondo, tanto che ancora lo devono trovare. Hitler. Non lo so. Sembra un pochettino ipotermine, effettivamente. Questo per pochi. Dylan Minette, Austin Butler, Brendan Fraser, John Travolta. Dylan Minette, Austin Butler, John Travolta. Un punto, Christian. Chi è? Stephen Hawking. Mamma, ho perso il treno a vapore. Che cosa? Jimmy Campbell. Mattias, Schweigoffer, Clint Eastwood, Tom Hiddleston, Christopher Waltz. Tom Hiddleston. Il secondo. Tom Hiddleston. Tu non dici niente? No, no. Doppio punto a loro due, cioè uno e uno perché hanno detto lui perfettamente assieme. Hitler. Basta, questo non puoi dirmi. Non è Hitler. Brad Pitt. No. Mi soffischiano le orette. Johnny Depp. No. Keanu Reeves, Michael B. Jordan, Michael Keaton, Michael J. Fox. Keanu. Keanu Reeves. Keanu Reeves. Keanu. Nessuno punto perché Michael J. Fox, ovvero Marty McFly di Ritorno al Futuro. Che sembro io. Non è Gaia. Sono tutti conosciuti. Adesso mi incazzo. La Watson. No. Ora ti la faccio a trovare a casa. Ma è un maschio. Non dico niente. Catherine Anne. Gal Gadot. Elliot Page. Michelle Williams. Michelle Williams. La prima. Michelle Williams. A nessuno punto perché è Gal Gadot, ovvero Wonder Woman. Non è un bambino, ma chi è questo e non è Blanco? T'ho paura. Aspè, questo è famoso. Quello che fa... come si chiama? Iron Man può essere. Cosa stai dicendo? Iron Man! Blasfema! David Hasselhoff, Jeremy Renner, Josh Radnor, David Harbour. David Hasselhoff. La prima. La seconda. Nessuno punto perché David Harbour, ovvero Hopper di Stranger Things. Vi sto dando possibilità di recuperare. È che non la sfruttano. No, ma lo dite uno a testa, uno al secondo lo prenderà. Quello che ho fatto la mamma ha perso l'aereo. È lui. Che già da bambino si conosce, non c'entra niente, però va bene. No. Patrick Stewart, Martin Short, Patrick Swayze, Steve Carell. Steve Carell. Steve Carell. Steve Carell. Terzo. Stewart. L'ha detto prima lei, quindi punto a Gaia. Chi è? Mary Cyrus. 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 Se avete risposto. Amanda Seyfried, Jessica Chainstein, Emma Stone, Amber Heard. Emma Stone. Amber Heard. 12. Dai, ho detto il voto insieme. No, ho detto prima lui. Ma si vede, si vede se è la pelle. Sandra Bullock. La vota. Ne uno, ne due. Avete? Cioè, Sandra Bullock in questa... Elena Bonan Carter. Johnny Depp, Sasha Baron Cohen, Meryl Streep. Johnny Depp. La prima, Elena. La prima, punto Alessia. Chi è? La conona mosca, quella... Sandra Bullock. Due punti a Gaia. Finalmente! L'ho trovata, è tanto grande. Oddio. Non so perché il nome è familiare. Non è Chucky. Madonna. Era in precazione oppure è? Madonna. Shelley Duval. Morena Baccarin. Lily Aldrin. Michelle Pfeiffer. Lily Aldrin. Gaia. Chi è che ha vinto? Complimenti Christian, hai vinto. Grazie, grazie mille. È sul podio. Il primo proprio. Allora, Christian ha fatto tre punti, bravo. Grazie. Alessia ha fatto cinque punti, io ho fatto dieci punti e basta. È il migliore ovviamente. Dodici. Vabbè, per poco, hai vinto. Mi sono rifatto al video precedente. Hai vinto. Bravo. Ciao. Come si finisce un video? È stato bello ragazzi, tutti i partecipanti sono fiere di aver perso al mio cospetto. Ci vediamo. Ciao.